È la prima volta che vengo a Giffoni, è la prima volta che ho un incontro organizzato in una maniera così meravigliosa. L'incontro con i ragazzi è appena avvenuto e devo confessarti che io avevo un po' di paura, perché gli adolescenti sono il mio amore, anche il mio amore narrativo, perché penso sempre a storie per adolescenti che hanno dalla loro parte il tempo e il futuro. Penso sia la cosa più bella da raccontare, almeno per me. Ma sono anche sempre molto onesti e a volte molto duri, quindi l'aspettativa anche di un dissenso c'è sempre, proprio per l'onestà. Devo dire che sono molto fortunata, è stato un incontro intenso, meraviglioso. La grazia con cui questi ragazzi tutti approcciano il regista, domandano le cose, e la profondità delle domande mi ha fatto anche sentire più intelligente di quello che pensavo di essere, perché mi hanno attribuito delle qualità che non so se ho. Però è stato divertente, ma allo stesso tempo molto emozionante, ed ha anche un incontro molto serio. Nel senso, il divertimento è venuto anche dalla profondità con cui approcciano il cinema, e si sente l'amore che hanno per il cinema, l'amore per le storie. E quindi c'è stato un divertimento molto serio, dei momenti anche di larità, ma mi ha colpito tantissimo la preparazione e la precisione delle domande. sanno esattamente quello che vogliono sapere, che vogliono chiedere, e si aspettano delle risposte all'altezza. Quindi speriamo di essere stati all'altezza. Io penso che da questa esperienza del Giffoni i ragazzi debbano portare con sé l'onestà delle persone che hanno incontrato, se l'hanno trovata, la passione per una macchina che crea elementi fantastici, storie fantastiche, che è il cinema. La serietà con cui questa macchina va affrontata. Il cinema è anche un lavoro, è anche un'industria, è anche tanto studio, prima della preparazione e la produzione di un film. E credo che la cosa più bella sia portare con loro il sogno che questa macchina magica possa appartenere anche a loro, che non è così distante da altri lavori. Ed è stato molto bello vedere che i ragazzi avevano una conoscenza della materia di cui parlavano. E alcuni, almeno questo è quello che ho percepito io, avevano anche forse il desiderio di seguire, no? Di seguire un sogno. E appunto quello che vorrei, almeno per il mio incontro, che portassero con sé, è che quel mondo c'è. Ci vuole del lavoro, ma che quel mondo fantastico esiste e può essere anche loro. Il mio percorso è abbastanza schizofrenico. Quindi domandare a me se sia meglio fare una scuola specifica per un lavoro o cercare di prendere esperienza in più ambiti possibili è una domanda un po' pericolosa. perché io in realtà ho studiato altro e avevo delle intenzioni diverse. Ho una preparazione appunto in economia e politica internazionale e avrei con gioia intrapreso forse una carriera diplomatica. Avevo una grande passione che ho sempre coltivato, che era quella del racconto, del teatro, del cinema sin da quando ero molto giovane. Non avendo fatto quel tipo di studi sono stata costretta, ma poi felice, di fare la gavetta in tutti i reparti. Non avevo fatto scuola di cinema e quindi ho fatto la gavetta sia in produzione che in montaggio, che nel reparto del suono per riuscire, e poi con gli attori, per riuscire ad imparare il più possibile. Poi si chiama anche vita, perché ho avuto delle esperienze che spero mi abbiano arricchita. Poi se il mio lavoro è buono, allora forse qualcun altro potrà dire che fare questo percorso è una cosa positiva. Io sarebbe troppo presuntuoso da parte mia poterlo dire. Io ho il percorso che ho intrapreso, me lo sono trovato e costruito e non so cosa voglia dire essere andata ad una scuola di cinema ed aver studiato solo regia. Sicuramente credo nella vita avere esperienze in vari ambiti aiuti come essere umano, quindi forse anche come regista. Grazie a tutti.